Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di truffe agli anziani, sono sempre di più i casi che si sono verificati nel territorio aretino, gli ultimi in ordine di tempo, due donne anziane residenti nei comuni di Poppi e Subbiano, il modus operandi era quello utilizzato spesso, ovvero fingersi un avvocato o un maresciallo dei carabinieri che contattano la vittima telefonicamente comunicandole che un proprio congiunto è stato vittima di un incidente stradale chiedendo di sborzare una somma. Come dicevamo sono due i casi scoperti dai carabinieri nelle ultime ore ma ce ne sarebbero stati altri e allora in questo caso il truffatore è stato per fortuna individuato e denunciato ma proprio sul caso delle truffe agli anziani il prefetto ha scritto oggi a tutti i sindaci. Mettere in campo tutte le possibili azioni di formazione per sensibilizzare i cittadini sui pericoli che gli anziani corrono per le frequenti truffe di cui sono vittime. È questo il messaggio che la prefetta di Arezzo, Maddalena De Luca, ha inviato a tutti i sindaci della provincia in relazione alla nuova ondata di episodi avvenuti questi ultimi giorni. Solamente nella giornata di lunedì in Casentino dei malviventi hanno infatti messo a segno due raggiri e ne hanno tentati almeno altri cinque con l'escamotage del finto avvocato e finto maresciallo. A due anziani di Subbiano e Poppi erano stati portati via con tanti gioielli e anche una collezione di monete commemorative d'argento. Nella lettera la prefetta esprime preoccupazione per la recrudescenza del fenomeno che oltre al danno economico del furto di denaro e altri beni può comportare conseguenze negative sulla vita degli anziani e sulla qualità delle loro relazioni umane. È per questo fondamentale, conclude, che si sviluppi una mirata azione di prevenzione da parte anche delle amministrazioni comunali perché solo un'adeguata conoscenza dei rischi di essere soggetti a questo tipo di raggiri e truffe può scongiurare il perpetrarsi di eventi criminosi nei confronti di anziani e di tutte le persone in condizioni di particolare fragilità. Crolla un cornicione in centro storico e è accaduto nella tarda serata di ieri. I calcinacci sono caduti a terra tra via dell'Anfiteatro e via Margaritone. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Momenti di paura in pieno centro storico di Arezzo per il crollo di un cornicione. È successo ieri sera attorno alle 20 in via Margaritone. Da un palazzo di quattro piani, accanto al Sacrario dei caduti e di fronte al Museo archeologico di Arezzo, all'improvviso si è staccato un pezzo del cornicione del tetto. I detriti sono così caduti giù con forza facendo un volo di molti metri. Insomma, una tragedia sfiorata. Fortunatamente in quel momento non c'erano passanti e nessuna persona è così rimasta coinvolta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. La zona è stata poi transennata su entrambi i lati dai pompieri. Un incontro in cui si parlerà di bullismo e cyberbullismo organizzato da Futuro Arettino. Il testimoniale in questo caso sarà Flavia Rizza che parlerà agli studenti della scuola Buonarroti Fossombroni il prossimo 31 marzo alle 8.50. Questo è l'orario appunto di avvio dell'incontro. Flavia è una ragazza che è stata a sua volta vittima dei bulli in rete e online e che oggi appunto si batte contro queste forme di violenza portando la sua storia in tutte le scuole d'Italia. Una vita da social. Questa è la campagna itinerante per il corretto uso di internet della Polizia di Stato di cui appunto Flavia è testimonial. come dicevamo questo è stato un incontro organizzato da Futuro Arettino dopo l'altro incontro che ricorderete aveva visto protagonista anche la nostra emittente ospitato dalla Casa dell'Energia. Adesso invece parliamo di sicurezza stradale perché per difendere diciamo così la campagna shock che ha fatto anche molto discutere del comune di Castiglion Fiorentino proprio per sensibilizzare i giovani e non solo sul tema importantissimo della sicurezza stradale sono voluti intervenire anche i genitori di Federica Canneti la giovane di appena 22 anni morta in un incidente stradale lo scorso ottobre a Vitiano. Sentiamo. Purtroppo è toccato a lei ma poteva succedere ancora una tragedia peggiore quindi perché correre? Perché? A parlare Rosanna Agnelli madre di Federica Canneti morta lo scorso ottobre in un incidente stradale lungo la regionale 71 all'altezza di Vitiano. Aveva solo 22 anni. Il giovane che guidava l'auto su cui si trovava Federica assieme ad altri amici è stato accertato dai periti che viaggiasse ad una velocità di 136 chilometri orari. Lei neanche si è accorta e questo è il problema che lei è morta senza accorgersi. Morire così non lo augura nessuno e per noi è sempre una cosa ricordarla in questo momento ci fa star male insomma. Oggi però non è il giorno in cui i due genitori della 22enne vogliono parlare delle vicende giudiziarie che avranno sicuramente un loro iter. Rosanna e il marito Marcello sono a Castiglion Fiorentino in cui Federica viveva con i genitori e la sorella per sostenere una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale voluta dall'amministrazione comunale e dalla polizia municipale. Un'auto incidentata esposta nel piazzale Garibaldi è uno slogan meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo. Una campagna a shock che ha fatto anche discutere ma il sindaco Mario Agnelli risponde alle polemiche rilanciando sull'importanza dei comportamenti alla guida. Non ci sono né strade killer né macchine killer e purtroppo è l'uomo, la donna che guida che può diventare killer di se stesso piuttosto che degli altri e questo è quello che dobbiamo non stancarci di combattere. Io sono grato alla famiglia Canneti che in questo momento non pensa a Federica ma non pensa a tutti gli altri. Non vorrei mai più accompagnare un babbo e una mamma all'obitorio la sera per far vedere la figlia. Questo da comandante e da babbo è veramente un dolore incredibile e te lo porti dietro. Ben venga qualsiasi iniziativa quindi anche forte, anche dura e va sempre a braccetto con la prevenzione. Prevenzione e controlli, occorrerebbero più controlli e per forza di cose siamo limitati, le forze di polizia sono in numero esiguo però bisogna in tutti i modi trovare una soluzione, anche una vita che salviamo è importantissima. È il giorno della prova del 9 per il neopresidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri dopo le tante schermaglie politiche che si sono lette sui giornali e sentite anche nei media locali compresa ovviamente la nostra emittente. Oggi alle 17.30 era appunto prevista l'adunanza del consiglio provinciale all'ordine del giorno, tre atti fondamentali per l'ente, il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione e il piano triennale delle opere pubbliche. Per il momento vi possiamo dire che la consigliera Cinzia Santoni l'espressione della Lega era assente, quindi sono 12 su 13 appunto i consiglieri presenti. In questo momento non siamo però in grado di dirvi come appunto è andata a finire la votazione lo faremo sicuramente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso invece rimaniamo in provincia perché proprio ieri appunto le sale del palazzo provinciale hanno ospitato invece un convegno che parlava di molestie sul lavoro. Ci sono delle convenzioni importanti che devono essere poi dopo recepite dal nostro sistema giuridico, devono essere interpretate ma soprattutto devono essere applicate. Ecco, l'obiettivo dell'iniziativa ad oggi è intanto di farle conoscere e poi impegnarsi tutti fin da luoghi di lavoro non solo a perseguire ogni forma di violenza ma a fare una formazione, un'informazione capillare necessaria perché come parti sociali possiamo svolgere un ruolo attivo soprattutto a recuperare un gap importante che c'è in questo paese. Un confronto partendo dalla Convenzione 190 adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro il 10 giugno 2019 ratificata dall'Italia nel 2021 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Ecco, un paese civile si deve interrogare su come si offre a tutti una pari opportunità e la dignità partendo dal luogo di lavoro di potersi caratterizzare, inserire in un contesto di società e pretendere il rispetto dei propri diritti. A promuovere il seminario i sindacati confederà il CGL, Cisleguil, la provincia e la consigliera provinciale di parità in collaborazione con il Centro Studi Discriminazioni di Pisa. Con il seminario di oggi abbiamo voluto parlare delle discriminazioni di genere all'interno dei luoghi di lavoro perché spesso queste discriminazioni vengono fatte nei confronti delle donne che hanno appena partorito. Spesso non vengono applicate tutte le norme e si cerca di fare in modo, nonostante non esistano più le dimissioni in bianco che sono state cancellate per legge, comunque di aiutare le donne ad uscire dal mercato del lavoro. Ecco, oggi siamo qui anche per questo, per cercare di prevenire le condizioni, le norme ci sono, dobbiamo imparare anche come organizzazioni sindacali a lavorare meglio nei luoghi di lavoro affinché queste cose non succedano ed emergano e vengano denunciate nel momento in cui ci sono. Grazie a Bertelli, dice Marinoni. La comunità retina tornerà a vivere un luogo di ritrovo che ha fatto la storia di questa città e questo vale anche per le migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo che nel loro giro di Arezzo avevano appunto spesso incluso anche, insomma, i costanti che come sappiamo era stato protagonista del film La vita è bella. Adesso cambiamo invece argomento e parliamo di iniziative davvero importanti da parte dell'Ordine dei Medici. Ce ne parla nel prossimo servizio Chiara Sadotti. Il diritto alla salute è un diritto importante e costituzionalmente definito e laddove c'è un diritto c'è qualcuno che ha un dovere. Il dovere ce l'hanno i medici che in autonomia e in responsabilità, con grande senso di responsabilità, portano avanti la tutela di questi diritti. Per far questo ci sono anche, oltre il senso etico, la missione del fare il medico, ci sono anche delle compense burocratiche. L'accesso ai documenti amministrativi sarà così il tema dell'evento formativo patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ottini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in programma per il prossimo 5 aprile. Su punti interveranno tre colleghe, l'Avvocato Fabretti, l'Avvocato Desiderio e l'Avvocato Boschello, che si occuperanno di diritto di accesso con riferimento sia alle ultime novità giurisprudenziali, con riferimento poi specificamente all'accesso ai procedimenti disciplinari. A questo proposito si affronterà anche il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e da ultimo l'Avvocato Boschello si occuperà di farci una panoramica su quello che è il difficile bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso. E poi parleremo anche di codici di comportamento dei pubblici dipendenti con la disciplina dell'accesso e con l'illustrazione delle novità che dovrebbero entrare in vigore entro il 30 giugno 2023. Sarà una giornata di formazione dedicata al personale dipendente, ai membri dei consigli dell'ordine. Perché questo? Perché la formazione ai fini amministrativi sia dei consiglieri che anche dei nostri dipendenti è fondamentale per garantire la corretta gestione degli ordini dei medici non solo e non tanto ai fini della tutela degli iscritti quanto ai fini della tutela della salute pubblica e dei cittadini. Giuseppe Fanfani e l'Inferno di Dante è una mostra al Museo Civico di Sansepolcro dal titolo Aere senza stelle appunto l'esposizione dedicata all'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri allestita nella Sala delle Volte del Museo Civico di Sansepolcro città natale appunto di Giuseppe Fanfani. La mostra curata dal museo è introdotta dal nocchiero dell'Ontretomba Caronte con la grande tela collocata all'inizio che poi traghetta i visitatori alla scoperta del coinvolgente percorso pittorico. L'inaugurazione della mostra che sarà visitabile fino al 31 di maggio è prevista per venerdì 31 marzo alle 17. E siamo allo sport con questo primo servizio in vista soprattutto del prossimo impegno dell'Arezzo conosciamo una parte proprio dello staff del cavallino in questo caso Massimiliano Maggi, allenatore dei portieri. Massimiliano come allenatore dei portieri questa è una stagione molto particolare tu sei aretino e in questo ruolo sicuramente sei cresciuto nel passato quali sono state le tue esperienze? Partiamo un po' da lontano prima di parlare del presente. Sì, guarda, ormai sono tanti anni che alleno nonostante l'età giovanissima perché purtroppo ho smesso molto presto ho appeso molto presto le scarpette al chiodo e mi sono dedicato a 360 gradi a questa figura quale è l'allenatore dei portieri quindi ho conseguito nel 2015 già i primi patentini mi sono fatto tutta quanto un'esperienza sul settore giovanile professionistico a Perugia tutte le categorie dall'under 15 fino alla primavera ho ricoperto per due anni qui ad Arezzo il ruolo del responsabile dell'area dei portieri sul settore giovanile la stagione in cui abbiamo vinto lo scudetto con la primavera 3 poi ho avuto una brevissima esperienza a Novara purtroppo si è conclusa male perché la squadra non si è iscritta al campionato di Lega Pro due stagioni fa e quest'anno eccoci qua con questo campionato di Serie D Tu sei quindi nato calcisticamente come portiere oppure in un altro ruolo? Nato calcisticamente come portiere sono nato Chi è il tuo anfitrione? Qual è il tuo esempio per svolgere poi questa attività, questo ruolo? Beh, allora, come esempio diciamo come quando uno gioca si basa solo sul giocatore, sul portiere magari del momento che è in auge mi ricordo i vari buffon quando c'era un periodo che veramente si contendeva tra lui e Dida facevano che alzava di più l'asticella questo come giocatore come allenatore ovviamente dopo ti cambiano i tuoi riferimenti non tanto i giocatori in campo quanto i tecnici in sé per sé sia per quanto riguarda il ruolo del portiere sia per quanto riguarda quello del calcio a 11 E come allenatore a che ti rifai? Allora, come allenatore dei portieri la nostra scuola italiana sicuramente è una delle migliori faccio un esempio stesso, lo stesso Claudio Filippi che è alla Juventus che ormai da una vita è stato uno dei veri innovatori sul nostro ruolo per quanto riguarda la figura dell'attacco palla ma ora cito lui perché magari è quello che gli ascoltatori l'hanno sentito anche un pochino più di tutti ma tutti quanti gli allenatori della nostra Serie A italiana comunque dei portieri hanno un livello di conoscenze e di praticità in campo che è veramente altissimo e di spessore E oggi è stato anche il giorno della presentazione del torneo del centenario società professionistiche e del mondo dilettantistico non solo a retino un appuntamento ideato e realizzato dai responsabili del settore giovanile del Cavallino si svolgerà dal 9 all'11 di giugno con il primo torneo organizzato dal vivaio Amaranto e che si svolgerà interamente presso lo stadio comunale 32 le formazioni iscritte è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci